Un centro trasfusionale di assoluto livello per tutto il territorio, da oggi ancora più accogliente. Si è celebrata infatti questa mattina la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali dell'unità operativa di medicina trasfusionale presso l'ospedale Madonna del Soccorso. Alla presenza del vescovo Monsignor Gervasio Gestori e delle massime autorità politiche, sanitarie, militari e cittadine, a fare gli onori di casa sono stati il direttore sanitario, dottor Giuseppe Petrone e la dottoressa Maria Antonietta Lupi, direttore generale dell'unità operativa di medicina trasfusionale. Abbiamo capito che il donatore va gratificato perché ha questi suoi impulsi di grande generosità, la sua voglia di donare assolutamente al di fuori da ogni interesse di qualsiasi genere, dettato soltanto dalla voglia di far bene. La nuova veste dei locali, voluta appunto come segno di riconoscenza ed affetto verso i donatori, è stata curata con particolare attenzione sia nei colori che nelle dotazioni informatiche e tecnologiche, grazie a varie donazioni fatte da Rotary Club e dalla Picena Ambiente. Pavimenti rossi e oro, opera della pittrice Grazia Cichinè, confortevoli poltronne rosse, porte serigrafate con vistosi colori e le migliori tecnologie sanitarie ed informatiche. Un arredamento accattivante che invoglia chiunque a seguire l'esempio dei migliaia di donatori che giornalmente affolano il primo piano del Madonna del Soccorso. Uno degli invitati delle autorità che porterà la figlia e le amiche della figlia a donare il sangue perché hanno compiuto 18 anni e hanno visto appunto questa nuova accoglienza di questi locali sono state spinte a venire, d'altra parte la pubblicità è l'anima del commercio, quindi se noi non facciamo vedere quello che abbiamo fatto di bello e di nuovo noi non riusciremo magari ad attirare nuovi donatori. Si sono alternate gli interventi delle autorità sanitarie, da sottolineare quelli di Carmen Ruta, direttore del Servizio Salute della Regione Marche, e di Mario Piani, direttore del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale. Entrambi hanno parlato di Area Vasta, il progetto ideato ed in fase di realizzazione negli ospedali della provincia, che unirà le strutture a Scolane e San Benedettesi, con l'obiettivo di rendere il sud delle Marche finalmente capaci di soddisfare tutte le esigenze sanitarie del territorio.